che ho conosciuto, poi la mia amicizia con Rav Manilov e poi Toscanini, più tardi. Così vede ho assorbito tutto quello che sentivo, il che non significa che la personalità ne soffra, anzi, si forma, si rafforza con ogni incontro. Adesso purtroppo è più difficile per un artista avere questi contatti, ed io devo dire di essere stato un'eccezione, mi hanno aiutato moltissimo, ho ascoltato molte cose senza discutere, senza dire no, non sono d'accordo, magari disapprovando dentro di me, altre volte il contrario, e ho ascoltato tutto, e così anno dopo anno dopo anno si formano le influenze. With the ease and ease and ease and ease, no.